Il punto più caratteristico di Porto Gruaro sono i due mulini del 400, che sbarrano il corso del fiume Lemene. Il Duomo, eretto nell'Ottocento nel luogo di un'antica chiesa romanica, di cui resta l'agile ma inclinato campanile. La Porta di Sant'Agnese La Porta di Sant'Agnese costruita intorno alla metà del XII secolo, anticamente chiamata Porta del Bando e poi di San Lazzaro. La chiesa di San Giovanni, eretta nel 1338 e ampliata nel 1446. Il Palazzo Municipale, di stile gotico in mattoni, faccia a vista, è il manufatto più tipico dell'architettura civile portogruarese. Lo storico portogruarese Antonio Zambaldi fa risalire la parte centrale al 1265. Le ali laterali furono aggiunte probabilmente nel 1512, come pare da un'iscrizione murata nella facciata. Subì tre restauri nel corso dell'Ottocento. Altri lavori di restauro e ampliamento furono eseguiti verso il 1965.